In Bosnia migliaia di soldati di una missione congiunta di mantenimento dalla pace dell'Unione Europea hanno condotto un'esercitazione militare su larga scala in mezzo a crescenti tensioni nel paese. All'esercitazione hanno preso parte soldati provenienti da 20 paesi, unitamente a forze speciali provenienti da Italia, Austria e Turchia. L'Unione Europea ha deciso di rafforzare la sua presenza militare all'inizio di quest'anno in Bosnia. La maggiore presenza dell'UE sottolinea l'impegno per l'integrità territoriale del paese. Ciò dimostrerà la determinazione a rinsaldare la componente della forza dell'Unione con forze di riserva degli stati membri della NATO se necessario. In tal modo si sottolinea l'impegno inequivocabile per la sovranità, l'unità e l'integrità territoriale della Bosnia-Herzegovina. Il mandato della missione della Forza Militaria Europea scade il 3 novembre prossimo e dovrebbe essere rinnovato dal Consiglio di sicurezza dell'ONU. Mosca aveva espresso riserve in merito lo scorso maggio, in particolare a causa del suo rafforzamento dopo l'invasione dell'Ucraina. Grazie. Grazie.